Terminato il cavatappi, abbiamo un cambiamento sul nostro percorso. L'anno scorso si percorreva questo sentiero che vediamo sulla destra e si scendeva in una parte che quest'anno è stata disboscata. Quindi tireremo dritto per 20 metri e gireremo a sinistra secco non appena vediamo di fronte la vallata del fiume Chiascio e questo campo che si apre dinanzi a noi. Qui giriamo secco a sinistra, c'è una rampa su strada sterrata percorsa dai mezzi agricoli per andare a smacchiare il bosco della zona della Croce di Mora. Abbiamo appena girato quindi sulla sinistra, stiamo percorrendo questo tratto sterrato che costeggia il limitare di questo campo. Ecco qua appena superata la prima asperità c'è una parte che spiana addirittura una leggera discesa dove si può respirare ma per poco, circa 10 secondi, si riprendono un attimino le forze per poi risalire verso la parte dell'imbocco alla discesa della Croce di Mora. Eccoci qua in un tratto comunque difficile perché rimanere sul percorso con la terra mossa non è facile, la ruota posteriore scarta improvvisamente, ci sarà anche la possibilità di passare sulla destra su questo campo dove la terra è un pochettino più battuta, vediamo anche dalle condizioni del terreno che troveremo il 30 settembre. Eccoci qua in questa parte finale di questa ripida salita verso l'imbocco alla discesa della Quedotto di Mora, come vedete è molto sterrata e quindi abbastanza impegnativa. Ultimi tratti in questa curva sinistra che poi ci metterà sul piano, molto difficile, veramente c'è da fare un bello sforzo per svalicare questa piccola asperità. Eccoci qua, le ultime pedalate, poi gireremo a destra verso la Quedotto di Mora.